Devo metterti in guardia su una cosa. In guardia a me? È davvero tardi. Desidero metterti in guardia perché potresti inadvertitamente, per disattenzione e leggerezza, dare modo di parlare di te in società. Io non sono un comitato. Ti prego, dimmi ciò che vuoi dirmi. Tu e il conte Vronsky avete attirato l'attenzione stasera. Non ami quando non parlo con le persone, non ami se lo faccio. Non ho notato nulla personalmente, ma ho visto che gli altri l'hanno notato. Considero la gelosia offensiva per te e umiliante per me. Non ho il diritto di indagare sui tuoi sentimenti. Essi riguardano solo la tua coscienza, ma è mio dovere ricordarti che siamo stati legati da Dio. E questo legame si può spezzare solo con un delitto contro Dio. Non ho niente da dirti. E hai un figlio. E sono stanca. Se mi sbaglio, ti chiedo perdono. Non so di cosa tu stia parlando. Ed è veramente troppo tardi. Scusami, ti prego. Scusami, ti prego.